Evangelos Venizelos, l'uomo simbolo della battaglia di Atene per evitare il fallimento, si è dimesso dall'incarico di ministro delle finanze. Il 55enne socialista, appena eletto nuovo leader del PASOK, deve impegnarsi a riguadagnare la fiducia dei greci. Secondo un recente sondaggio, in vista delle prossime elezioni, il partito sarebbe la quinta forza del paese, con l'11% delle intenzioni di voto. La missione è difficile, in Grecia è forte l'avversione, verso la classe politica attualmente al governo e sono quotidiani scioperi e manifestazioni di protesta. L'ultima mobilitazione, in ordine di tempo, riguarda i marittimi. Tutti i collegamenti tra il porto del Pireo e le isole sono stati interrotti per 48 ore. Il sindacato chiede la firma delle convenzioni collettive del settore e la prosecuzione del finanziamento della cassa dei marinai sul bilancio pubblico.